Per avere questo effetto prendiamo due clip filmate allo stesso modo una con il prodotto aperto e una con il prodotto chiuso ed una con il telefono con un green screen andiamo nella pagina color andiamo su effetti cerchiamo 3D care e lo aggiungiamo io ho fatto un freeze frame della prima clip col prodotto chiuso e applicato una maschera la maschera è qui se attivo e disattivo vedete? questo è il risultato finale